La stangata dei rincari arriva anche per il pane e per la colazione al bar. Da gennaio 2022 i fornai della provincia, in particolare quelli associati a Confcommercio, CNA e Confesercenti, aumenteranno il prezzo del 20%, mentre in pasticceria ci sarà un rialzo attorno al 25% circa sul costo della colazione. Per intenderci una brioche che fino ad oggi poteva costare 1,10 euro arriverà ad 1,30 euro. La motivazione è semplice, il costo della materia prima, in particolare nel comparto della panificazione, è aumentato anche per via delle quotazioni record raggiunte dal grano. La stessa sorte è toccata da alcuni prodotti tipici della prima colazione, caffè, latte, zucchero, solo per citarne alcuni, e i commercianti di conseguenza si sono dovuti adeguare, promettendo di applicare a breve, alcuni a Pesero hanno già iniziato, un aumento dei prezzi. L'impennata globale dei prezzi dei generi alimentari inevitabilmente si ripercuote sulle tasche dei consumatori, che si ritroveranno così a dover ridimensionare le proprie spese. I clienti chiedono, si informano? Allora, momentaneamente ancora non hanno chiesto niente, perché sono più preoccupati dell'aumento del resto che c'è stato, ma arriverà anche la fatidica domanda, che arriverà a noi. Tanto se la dobbiamo fare, lo faremo, perché come ci aumenta la materia prima noi, purtroppo di conseguenza ci regoleremo in questo modo. Noi abbiamo dovuto aumentare 10 centesimi il caffè, perché il caffè all'acquisto costa il 10% in più dal primo di ottobre, quindi certe torrefazioni, poi dopo non so se a livello nazionale o meno. Quindi abbiamo aumentato qualcosina, ma non senza esagerare. Oltre che, qui non è un problema l'aumento, è che certe materie già scarseggiano, quindi preoccupiamoci che continuino a fornirci i fornitori. Quindi ad oggi, per farla, diciamo, breve, un cappuccino, una brioche, quanto costano al cliente? 1,60, 1,20, 1,30, con 3 euro se la cavano, dai. Avranno un piccolo aumento, ma niente di esagerato, io credo. Per il momento comunque noi andiamo avanti sempre con i soliti prezzi e aspettiamo alla fine dell'anno. Avviene perché è aumentato tutto, dalla luce, dall'acqua, dalle materie prime, tutte le cose sono in aumento. e anche noi giustamente abbiamo diverse spese che aumentano e tutto aumenta e anche noi dobbiamo aumentare.